Odu, una vittoria molto importante innanzitutto, no? Sì, questa vittoria l'abbiamo meritato perché questa vittoria si vince in settimana, non solo a sabato. Abbiamo un atteggiamento giusto, un grinta, una voglia di portare i punti a casa. Quindi una partita figlia di una settimana in cui vi siete allenati molto bene. Sì, abbiamo lavorato molto bene in settimana e abbiamo avuto questa vittoria, siamo tutti contenti. A livello personale la soddisfazione di un altro gol, siamo a quattro se non ho perso il conto quest'anno, quindi mondiali più vicini e comunque una prestazione importante, spesso hai puntato all'avversario, hai creato problemi. Sì, sì, io voglio fare bene tutte le partite che faccio e fare anche il gol, quello è l'obiettivo, anche punta sul mondiale, ma prima devo quasi salvare il Varese e penso al mondiale. Mi racconti l'azione del gol, è stato un po' confuso, tu sei stato veloce ad andare su questo pallone. Abbiamo lavorato tanto sul calcio all'angolo contro e quando sono davanti al portiere ho visto la palla che ha rispinta e sono veloce ad buttare dentro.